Digimonia Rapporto e benvenuti in questo nuovo video Prima di continuare con il video però se i miei video ti piacciono iscriviti al canale Lascia un mi piace, un commento ma soprattutto seguimi su Instagram e su sito Viola Troverai il link in descrizione come in ogni video Ma cosa più importante se i miei video ti piacciono condividili con amici, parenti, sui social Per aiutarmi a far crescere questa piccola community a cui tengo tanto E per supportarmi Finalmente sono tornati gli acquisti del weekend Anche se oggi siamo a metà settimana ma non importa ce li ho qui di fianco a me Che sono veramente veramente stra felice di mostrarveli Perché non mi aspettavo di trovarli ok Parto dal più basilare che ormai ce l'hanno tutti E l'ho già mostrato Sto parlando della versione fisica di Cyberpunk per PC Che è veramente veramente bella Su Instagram ci ho fatto un unboxing quindi potete vedere tutto quello che c'è all'interno Non la sto ad aprire adesso E la cosa che mi è piaciuta di più di questa edizione fisica per PC E che il codice da riscattare è praticamente una tessera di tipo quelle da Bancomat Dove devi grattare il codice Ed è veramente una cosa stra carina E avendolo io preordinato da GameStop Ho ricevuto in omaggio il fumettino allegato Tutto in italiano Purtroppo l'edizione GameStop non ha la Steelbook come quella su Amazon Ma comunque ho un fumettino Che spiega una parte della storia Ancora non l'ho letta Per essere sincera Aspettavo di finire il gioco Però comunque sono veramente stra felice L'edizione per PC stranamente è completa come quella per la Playstation 4 Perché di solito quando io acquistavo le edizioni per PC Alla fine quelle della Playstation 4 erano molto più non dettagliate Fatte meglio C'erano più cose all'interno Invece in questo caso qui sono praticamente uguali E l'unica cosa che cambia è che nella versione per PC avremmo i CD fisici per le soundtrack Mentre sulla versione Playstation 4 saranno da scaricare Penso che sia stato uno degli acquisiti più belli di questo anno Lo sto portando in live sul sito Viola Ok ieri ho smezzato Però erano 4 giorni che lo stavo portando in live Sono a poco più di 10 ore Ed è fantastico È veramente veramente bello Tra l'altro volevo fare un video solo a tutta la questione che sono sollevata dietro Purtroppo alla CD Projekt Red E lo farò probabilmente prossimamente Forse sarà il prossimo video che vedrete Ora però io questo lo metto Così sotto l'albero Sotto l'albero Ok così più o meno si E ora passiamo ai due acquisti che non mi aspettavo di fare Uno in realtà che non l'ho neanche contato in questo video È questo cosino qua Che l'ho fatto vedere su Instagram Non sono gli squishy nuovi di Minecraft La serie 2 Io ho completato tutta la serie 1 E ho preso una bustina e mi sono beccato quello raro Anche questo l'avevo fatto vedere su Instagram Perché ci sono rimasta male Tra tutti quelli che potevano uscire Mi è uscito quello raro 1 su 24 Va bene Partiamo con la prima Raga non so quello di mostrarvi per prima Perché sono tutte due belle succolette Va bene Iniziamo con la prima Che è la prima che prendo Sono riuscita a trovare senza prenotazione La Funko Pop di Bloodborne Ovvero quelle marchiate PlayStation Che mi pare fossero Alcune fossero esclusiva a GameStop Come appunto il Sam dell'altro video E questo non mi aspettavo di trovarlo Siccome le Funko della linea PlayStation Sono date praticamente sold out Ed erano da prenotare Questa non l'avevo fatta in tempo Neanche Joel Ne crato Se ero riuscita a prenotare solo Sam Porter Da appunto di Death Stranding E trovarla così Senza praticamente averla prenotata In negozio Ho deciso di acquistarla E di non farmela scappare Questa qui ha un prezzo normale Di 18,98 Perché purtroppo GameStop Ha iniziato ad aumentare i prezzi Sulle Pop E c'era anche la promo Che se se ne prendevano due Si pagava 20-22 euro Non ho lo scontrino A portata di mano Però comunque si pagavano Di meno E quindi Oltre a questa bellissima Funko di Bloodborne Ho preso anche Quindi Persona 5 Special Edition Anche questa qui Di non mi costava 19,98 Ultimamente sono Stare in fissa Con Persona 5 Oltre a Cyberpunk Che lo sto portando In live Ho iniziato PlayStation PlayStation Ho iniziato Persona 5 Su appunto La PlayStation Che lo gioco fuori Dalle live Perché non posso connetterla E mi ha preso tantissimo Non pensavo Mi potesse Prendere così tanto Ed è veramente Veramente bello Ve lo consiglio Io la versione Royal Che è tradotta in italiano Per chi non riuscisse Appunto con l'inglese Perché ci sono parecchi dialoghi Ma tanti dialoghi Essendo un JRPG Ma ve lo straconsiglio Per chi non la giocata E quindi Non potevo farmi fuggire Questa bellissima Funko Pop Di Queen Purtroppo è un po' rovinata Qui Un po' rovinata Quassù nell'angolo Ma purtroppo i corrieri Fanno schifo I pacchi di GameStop Non proteggono le Funko Le infilano E basta E quindi questo è il risultato Non pensavo ritrovarla Ora di questa collezione In cui mi piacerebbe avere Il Joker Perché Il Joker Penso che sia il personaggio Più bello di Persona 5 E probabilmente Anche Mona Mi piacerebbe avere Sono stracontenta Di essere riuscita A trovare Queste due Funko Pop Perché Di solito Le special edition Sono quelle che vanno Per la maggiore Infatti questa era Un po' nascosta In basso Non la vedeva nessuno E quella Di Bloodborne Che comunque Uscita parecchio mesi fa E già non si trovava più Sono veramente Veramente contenta Di questi acquisti Sono consapevole Che questo video È un po' cortino Ma purtroppo Questi sono gli unici Acquisti che ho fatto Perché tutto il resto Sono regali di Natale E non posso farvi vedere I regali di Natale Perché non è Natale E soprattutto La maggior parte Non sono i miei Perché il mio Non è ancora arrivato Il mio Non ce l'ho Devo ancora aspettare Ma comunque Ve lo mostrerò Appena mi arriva Date una possibilità A Cyberpunk Purtroppo Su Playstation È quello che è Ci farò un video A riguardo Come ho detto prima Però raga Per la storia È veramente Veramente bello Merita tantissimo Io lo sto giocando Su PC E non mi sarei mai Aspettato un gioco Di questo calibro È fantastico La città Se va viva È veramente Veramente bello Spero che questo video Ti sia piaciuto Purtroppo è cortino Però Di acquisiti Non solo quelli Tutti gli altri soldi Li ho spesi Per fare i regali di Natale Quest'anno E quindi Per me è poca roba Ma come ho detto inizio il video Se i miei video ti piacciono Iscriviti al canale Lascia un piaccio Un commento Ma soprattutto Seguimi su Instagram E su sito Viola Troverai i link In descrizione Come in ogni video Ma cosa più importante Se i miei video ti piacciono Condividili con amici Parenti Per aiutarmi Per aiutarmi a far crescere Questa piccola community In cui tengo tanto E per supportarmi Fammi sapere Se anche tu Hai fatto degli acquisti recenti Se hai fatto solo regali di Natale Cosa ti sei regalato Per Natale Che ancora mancano 8 giorni Solo 8 giorni È arrivato presto O non è Natale Se hai acquistato Funko Pop Se sei riuscito a trovare Quelle che volevi Mi stava per cadere Quack Se ti piace cyberpunk Se non ti piace Così da scambiarci 4 chiacchiere in compagnia Quindi spero che questo video Ti sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video In un prossimo episodio In una prossima live O su Instagram 10 anni Passo e chiudo